Sarà trasmesso questa sera su Video Mediterraneo alle ore 21 e 30 il cortometraggio Pacenzia, scritto dal 2013 e prodotto nel 2014 dall'autore e regista Francesco Larosa con le musiche di Carmelo Incognito. Il corto racconta di una storia di un padrino che durante l'ultimo incontro con i vari capi banda ricorda particolari momenti della sua esistenza, da piccolo, ragazzo, uomo, vecchio, fino a quando, durante l'incontro, confessa ai partecipanti l'inaspettata decisione. Girato in una catania bellissima, una fotografia accurata nei minimi dettagli, un dialetto unico e pittoresco, uno spaccato della nostra sicilianità che fa da collante fra il dolce e il drastico, ha superato le selezioni di ammissione ai vari concorsi nazionali per cortometraggio ed inoltre è stata chiesta la traduzione in lingua transalpina da parte del canale francese in Corsica. Grazie per noi, grazie per noi.